Ben trovati a questa nuova edizione del TG6 in apertura. Ci occupiamo della visita in Abruzzo del Ministro dello Sport Luca Lotti. Questa mattina è stato a Pescara per la presentazione del progetto del nuovo stadio del Delfino, poi a Letto Manopello per l'inaugurazione del nuovo stadio. Noi con Jacopo Forcella andiamo a vedere la visita a Pescara con tutti i dettagli del nuovo stadio che sono stati illustrati. Vediamo il servizio. Penso che sia una bella realtà, penso che si debba correre, ma ora ci illustreranno i tempi, modalità e la descrizione dell'intero intervento. Mi fa piacere vedere che ci sono realtà che investono nelle infrastrutture sportive considerando le infrastrutture essenziali. Il meglio è davanti a noi. Così ha concluso il suo intervento il Ministro dello Sport Luca Lotti, ospite d'onore questa mattina a Pescara per una giornata importante per il cavologo adriatico perché c'era la presentazione del nuovo progetto dello stadio che sorgerà nella parte sud della città. Presente anche il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che ha parlato convintamente dell'intervento dei privati in questa operazione e ha parlato soprattutto anche di quella che ha chiamato cultura dell'anticipo. Io ho tre valori che ho messo in evidenza. Per la prima volta ci muoviamo in anticipo. Prima, che la ristrettezza della norma ce lo dica spintonatamente. Secondo, il fatto che qui c'è il protagonismo della finanza privata e va benissimo. Terzo, che parliamo di calcio e non solo, che insegna il rispetto all'avversario anche nella vita individuale e collettiva. Mi complimento con chi ha messo in campo questa iniziativa e voglio ancora dire che mi convince molto, mi fa innamorare il profilo dell'investimento del privato-privato. Sarà un progetto, secondo le parole del primo cittadino Marco Alessandrini, che riqualificherà un'intera zona, quella sud appunto, di Pescara, che dovrà diventare un hub anche a livello di trasporti. Ovviamente presente anche il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha parlato di questo nuovo progetto che potrebbe vedere la posa della prima pietra nel 2019. Se si vuole guardare al futuro con una maggiore tranquillità c'è bisogno di dotarsi delle infrastrutture perché altrimenti si resta al palo e non si cresce. Noi abbiamo bisogno di fare questo e stiamo lavorando per arrivare a una conclusione in tempi brevi. Non è un caso che in Italia abbiamo tante strutture vecchie, strutture che hanno oltre 70 anni di vita e che non sono sicuramente accoglienti per quelli che sono i nuovi tifosi del calcio perché poi se vuoi portare le famiglie, vuoi portare più gente allo stadio devi comunque dare dei servizi che oggi le nostre strutture non hanno. Ovviamente non poteva bancare una battuta anche sulla partita di ieri sera ad Empoli la sconfitta dei biancazzurri di Zeman 3 a 1 e anche su quello che oramai è definito il caso Pigliacelli. Il Presidente Sebastiani però è d'accordo con la decisione del tecnico Zeman. Ma ieri penso che il Pescara abbia dimostrato, la società, il mister e tutti quelli che sono lo staff del Pescara che tutti sono utili e nessuno è indispensabile. Pigliacelli probabilmente ha sbagliato nell'atteggiamento e come ha detto il mister dipenderà tutto da lui però non si può far passare nulla perché poi è anche una mancanza di rispetto verso gli altri componenti della squadra che si allenano quotidianamente e che magari stanno trovando anche poco spazio però certamente non si comportano in questa maniera. Quindi in questo caso la società di Sebastiani sta con Zeman? Assolutamente sì. E poi è stato alla volta dell'intervento proprio del Ministro Luca Lotti. Poi ha parlato in conferenza stampa anche dell'importanza delle linee strategiche di come può essere una linea strategica la valorizzazione degli impianti sportivi. Pescara si inserisce dunque in una linea che parte dalla Juventus, passa per Udinese, Frosinone e Cagliari. Gli ultimi esempi. Rappresentano già una parte importante dal punto di vista sportivo. Deve essere considerato l'investimento anche come investimento economico e turistico per il nostro paese. Gli investimenti in quegli stadi che lei ha citato vanno in questa direzione ma anche le infrastrutture sportive che stiamo rimettendo a posto nel nostro paese grazie al bando sport e periferie. Questa è la direzione giusta. Dobbiamo continuare. Lunedì prossimo uscirà il prossimo bando, il prossimo fondo sport e periferie con ulteriori 100 milioni. Questa strada è quella giusta. Dobbiamo continuare ad intraprendere questa direzione perché non ci possiamo fermare perché le infrastrutture sportive in Italia sono importanti anche dal punto di vista economico. Cambiamo decisamente argomento. Andiamo in Regione Abruzzo dove è in discussione la richiesta di una commissione per i rifugiati. Vediamo insieme il servizio. Una commissione territoriale richiedente asilo da istituire in tempi brevi anche in Abruzzo nel Tribunale dell'Aquila senza più dover far riferimento a quella di Ancona. Con un conseguente risparmio di soldi per le trasferte e soprattutto delle tempistiche con le quali si decide sul via libera le domande di protezione internazionale presentate dai richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza oppure di respingimento. Questa è la richiesta che sarà inoltrata al Ministero degli Interni dalla Regione Abruzzo e che è stata sottoscritta anche dal Comune dell'Aquila. In Commissione Speciale Immigrazione della Regione Abruzzo a tal proposito il Presidente Emilio Iampieri, Forza Italia, ha oggi incontrato l'assessore comunale al sociale Francesco Bignotti. È un passaggio inaudibile, hanno confermato i due. Oggi le tempistiche sono troppo lunghe, anche superiori ad un anno, per eseminare ciascuna pratica e non bisogna dimenticare che alla fine dell'Iter, solo il 20%, si vede riconosciuto lo status di rifugiato. Tutti i profughi che arrivano in Abruzzo sono circa 4.200, oggi devono recarsi ad Ancona con aggravi di costi, tempi, perché la sezione di Ancona, che è quella competente per il Ministero per valutare quale sia lo status di rifugiato o di migrante economico, devono recarsi tutti ad Ancona. Oggi noi abbiamo la possibilità di istituire una commissione all'Aquila, che eleva di funzione la città dell'Aquila e risolve tantissimi problemi. Il Comune dell'Aquila si impegna formalmente a risolvere concretamente un problema così importante, siamo fiduciosi nell'accoglimento. Domani scriveremo una lettera al Ministro con una richiesta di appuntamento al Ministro Menniti, siamo fiduciosi nell'accoglimento. In Abruzzo non c'è questa sezione perché c'è il Tribunale di Ancona che svolge funzioni sia per le Marche che per l'Abruzzo. Portare questa sede all'Aquila vuol dire portare delle funzioni importanti in città, delle funzioni per tutta la Regione, pensiamo che manchiamo solo noi, solo l'Abruzzo in tutto il centro Italia, pertanto eleverebbe comunque la città dell'Aquila con una funzione in più, permette di risolvere questa problematica con tempi certi, con facilità, per tutta l'utenza, sia le amministrazioni, i richiedenti a sito che anche il gestore delle case famiglia. Il Consigliere regionale di Sinistra Italiana, Leandro Bracco, insieme al Segretario regionale del partito Daniele Liccheri e al docente universitario Carlo Di Marco hanno reso noti i contenuti del progetto di legge che si intitola Promozione della partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e locali, un progetto che si pone come obiettivo quello di favorire la cittadinanza attiva. Vediamo insieme il servizio di Polo Lorenzetti. Professor Di Marco, si parla di cittadinanza attiva in questo progetto di legge che è stato presentato in Consiglio regionale, cosa significa concretamente? Che la politica torni nelle mani dei cittadini, cioè torni nelle mani del sovrano. In Italia il sovrano è il cittadino, sono i cittadini. Bene, la politica è diventata appannaggio esclusivo dei partiti politici. Se fossero buoni partiti non ci stupiremmo tanto perché sarebbero essi a fare in modo che i cittadini svolgessero e svolgano un ruolo attivo, propositivo e di controllo. Ma siccome non sono buoni partiti, sono partiti degenerati, la grande maggioranza dei partiti sono degenerati, i cittadini sentono il bisogno attraverso gli strumenti di democrazia partecipativa, inclusiva e deliberativa di potersi riappropriare della politica che, ripeto, deve appartenere a sovrano. Un progetto di legge è presentato la scorsa settimana. Lei, Consigliere Bracco, si augura che ci sia un'ampia convergenza anche da parte degli altri consiglieri e delle altre forze politiche? Sì, da parte di quanti più gruppi politici possibile, perché di fronte a una proposta che vuole incentivare il coinvolgimento della collettività nel decidere le politiche pubbliche credo che non ci debba essere colore politico. Questa proposta, come diceva giustamente lei, la settimana scorsa è stata protocollata, quindi mi aspetto prevalentemente anche dai colleghi del 5 Stelle che siano detti tempo fa disponibili a sottoscrivere, a portare avanti questa istanza, al mio aspetto che confirmino questa proposta di legge, ribadisco il cui fine è quello di dare attuazione al principio di cittadinanza attiva. Andiamo avanti, circa un milione e mezzo di euro per finanziare e supportare la creazione di start-up nella nostra regione, il bando messo a punto dalla Fira che andiamo a vedere nel dettaglio, nel servizio. Favorire la creazione di piccole microimprese altamente innovative e tecnologicamente molto avanzate finanziando da un lato le spese di costituzione con un contributo, ma dall'altro la formazione e la qualifica di chi si rende partecipe e protagonista dell'iniziativa. Il bando regionale App Abruzzo, parti da te, ha una dotazione finanziaria di circa 1.500.000 euro che sarà gestita da Fira, mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese che coordinerà il progetto in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Università degli Studi di Teramo, la Fondazione Politecnico di Milano, la SIA e di Pixel. Le attività previste si svolgeranno attraverso quattro fasi consecutive complementari. La prima prevede una campagna informativa realizzata attraverso lo scouting Tour Barcamp per dare informazioni ed indicazioni sul bando e aiutare i soggetti interessati alla costruzione del progetto da presentare. Una volta selezionati i 45 beneficiari, inizieranno il programma con il Tech Meeting Barcamp, una full immersion di due giorni per favorire la creazione di team e far sì che i progetti presentati si trasformino in start-up. Successivamente ci saranno i percorsi formativi multidisciplinari per la durata complessiva di 400 ore che si terranno in presenza in modalità e-learning presso l'Università di Teramo con docenti dell'Università dell'Aquila, Teramo e Milano con il coordinamento di SIA. Inoltre è previsto un programma di training e di accelerazione a cura del Poli Hub con il supporto di D-Pixel che avrà la durata di 5 giorni full time con docenti della Business School del Politecnico di Milano, oltre che incontri con imprenditori, investitori ed esperti del settore. Qual è il percorso delle start-up nella nostra regione? Rappresentano oramai una nuova frontiera dell'economia, una nuova frontiera dell'occupazione. Si pensi che delle start-up costituite negli ultimi tre anni hanno partorito 35 mila nuovi posti di lavoro. La realtà in Abruzzo è comunque marcata, Fira detiene un market piuttosto elevato in termini percentuali, 44 sono le partecipate start-up da parte di Fira che rappresentano circa il 70% dell'intero segmento delle start-up presenti in Abruzzo. Un mercato quindi è o di una frontiera sicuramente da perseguire, perseguibile, importante per i giovani che vogliono trovare una nuova occupazione, ma che necessita poi a livello nazionale di un supporto importante in termini di defiscalizzazione e di incentivo all'equity, cioè incentivo all'apporto di capitali all'interno di questa realtà. Adesso ci spostiamo al Comune di Lanciano. Restituire circa un milione di euro è quello che chiedono i gruppi di minoranza e inoltre è necessario, dicono i consiglieri di opposizione, istituire uno sportello comunale per accogliere le istanze dei contribuenti che devono essere risarciti perché è stata una rapina. Queste le parole dell'opposizione. In questi giorni sette cittadini hanno vinto intanto i ricorsi con sentenze esecutive. Il Comune dovrà rimborsarli entro 90 giorni anche se nel frattempo opporrà appello. Andiamo ad ascoltare Tonia Paolucci che è il capogruppo di Libertà in Azione al Comune di Lanciano. Il piano finanziario approvato prevedeva un aumento di quasi 990 mila euro rispetto al passato. Questo aumento, come la legge diceva, non poteva e non doveva essere pagato dai cittadini, ma la legge dice all'ente che deve coprirlo con altra fiscalità, di conseguenza fu disattesa ogni risposta. Domanda posta anche in sede di interrogazione nell'ottobre 2016 dall'intera minoranza e anche in quell'occasione non ci fu data alcuna risposta, oggi sono arrivate altre 6 sentenze della Commissione Tributaria nella quale il Comune di Lanciano è soccombente, ma la cosa peggiore è che il Comune di Lanciano è stato assente in sede proprio di discussione e dibattito della Commissione Tributaria, cosa che invece fu detta nell'interrogazione 2016 e loro addirittura avrebbero fatto il ricorso in Cassazione perché erano convinti che c'erano degli errori. Oggi i cittadini si trovano ad aver pagato di più, i cittadini devono riavere questi soldi, invitiamo il Comune in primo ad agire in autotutela, per mettere comunque anche lo stesso ente in una situazione di tranquillità e poi di accendere e ad aprire uno sportello nel quale il cittadino può chiedere giustamente delucidazioni chiaramente ed avere i soldi indietro. Sono state individuate delle fasce di utenza che hanno pagato di più? Allora sì, l'hanno individuata loro stesso quando approvarono nel 2013 la delibera, praticamente già in giunta, se non sbaglio era la 247 del 13 novembre 2013, nella quale loro dissero che c'era per le utenze domestiche un aumento del 19%, per le altre utenze un aumento del 33%. La regista e scrittrice Lorenza Mazzetti ha incontrato questa mattina all'Università di Teramo oltre 700 studenti delle scuole superiori. La Mazzetti, nipote di Einstein, ha raccontato ai ragazzi l'omicidio politico della sua famiglia trucidata dai nazisti davanti ai suoi occhi. L'incontro è stato curato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. All'indomani del vile gesto di razzismo nel mondo del calcio per quella ignobile maglia con la foto della bambina Anna Frank, a Teramo si risponde con un incontro all'Università che ha ospitato la regista Lorenza Mazzetti. Un racconto lucido e straziante il suo, davanti ad oltre 700 studenti, sulla morte della sua famiglia trucidata dai nazisti proprio davanti ai suoi occhi. Nipote di Einstein, la Mazzetti, oggi novantenne, ha fondato il movimento del free cinema inglese, vincendo il Festival di Cannes nel 1956 con il suo primo film Together, girato quando era appena ventenne. L'incontro è stato curato dal Centro di Cultura delle Donne Anna Arendt, presieduto da Gwendalina di Sabatino. Com'è venuta l'idea di invitare proprio Lorenza Mazzetti a Teramo, all'Università? E' stata una situazione, una combinazione felice perché stavo assistendo in televisione all'intervista proprio a Lorenza Mazzetti quando hanno presentato a Venezia il documentario «Io sono un genio» di Steve della Casa e così ho subito deciso che sarebbe venuta a Teramo, che era una figura assolutamente straordinaria, lo si capiva da subito, dalle prime battute e quindi oggi è qui. Proiettati anche spezzoni di film della Mazzetti, molti di essi risentono del trauma per l'assassinio politico dei suoi familiari, compiuto dai nazisti per rivalza contro Einstein che si era rifugiato in America. Per tanti anni ho rimosso quel ricordo e quel dolore, ha detto la regista agli studenti Teramani, e per questo mi ero ammalata. Sono guarita solo quando ho iniziato a raccontare al mondo, attraverso film e libri, quell'assurdità che ho dovuto vivere. Musica per ricordare Roberto Del Rosso, il proprietario dell'hotel Rigopiano di Farindola, morto assieme ad altre 28 persone lo scorso 18 gennaio sotto la valanga che ha travolto l'albergo e che si è staccata dal Montesiella. La serata ha visto la partecipazione anche della moglie di Del Rosso. Sentiamo il servizio dei colleghi di Vestina News. Nella stupenda e affascinante cornice del castello Chiola di Loretta Prutino, sabato 21 ottobre c'è stato, in forma strettamente privata, il ricordo a Roberto Del Rosso, titolare dell'hotel Rigopiano, anche lui vittima della valanga che il 18 gennaio scorso ha distrutto interamente l'hotel causando la morte di 29 persone. Roberto era una persona solare, piena di vita, disponibile con tutte le persone che si ricavano nella sua struttura Rigopiano, ai quali mostrava sempre le sue ultime creazioni, compreso il Giardino dei Sensi, inaugurato nell'estate 2016. La data del 21 ottobre forse non è arrivata per caso, chissà se proprio Roberto non abbia voluto così. Il concerto è stato voluto fortemente dal maestro Alessandro Cavallucci che per nove anni ha suonato in hotel. Lui in pratica ha sognato Roberto e mi ha contattata dicendo che voleva fare qualcosa per lui. Nel momento in cui mi ha proposto la location del castello Chiola io sono rimasta un pochino perplessa ma non ho detto nulla. Mi ha detto che la prima data disponibile era il 21 ottobre e a quel punto io ho dovuto confessare che il 21 ottobre di 17 anni fa io e Roberto eravamo qui nel castello Chiola in questo stesso posto per il nostro matrimonio. Quindi diciamo che per me oltre all'emozione della musica c'è stato questo momento personale. Mi ho dedicato all'ultimo brano del concerto un sogno negli occhi proprio perché è stato un sogno, non un sogno negli occhi, un sogno che poi si è diciamo così realizzato ricordando quei momenti meravigliosi. Ma Roberto è una persona splendida e io ancora faccio fatica a immaginare che è tutto finito. Una persona straordinaria che si adattava con tutti ed era amato da tutti principalmente proprio per questo grande carattere che aveva. Torniamo a Teramo dove si è svolta la quinta edizione del convegno IBES indirizzato alle maestre di scuola d'infanzia con lo scopo di rilevare tempestivamente possibili difficoltà del neurosviluppo nei bambini. Vediamo. Si è tenuta a Teramo la quinta edizione del convegno denominato IBES, acronimo che sta per individuazione precoce dei bisogni educativi speciali indirizzato alle maestre delle scuole dell'infanzia con lo scopo di rilevare al più presto possibili difficoltà del neurosviluppo nei bambini. Perché è importante prevenire le difficoltà cognitive dei bambini? La letteratura scientifica ci sottolinea il fatto che fin dalla scuola dell'infanzia, nello specifico l'ultimo anno della scuola dell'infanzia è fondamentale per rilevare determinate difficoltà cognitive nei bambini. È un fattore fondamentale questo perché nella scuola dell'infanzia troppo spesso i bambini con difficoltà manifestano queste ultime tramite comportamenti disadattivi che troppo spesso vengono scambiati per pigrizia, per maleducazione o per difficoltà a livello comportamentale. Di conseguenza è fondamentale sottolineare l'importanza di fare prevenzione precoce per innanzitutto favorire il benessere del bambino in futuro, creare una rete di collaborazione tra gli professionisti, i genitori e gli insegnanti al fine appunto di dare al bambino tutti gli strumenti necessari per affrontare le sue difficoltà e non solo, anche mettere sotto un certo piano d'importanza a quelli che sono le sue potenzialità. Quindi noi professionisti collaboreremo con le insegnanti per cercare appunto di individuare precocemente i bisogni educativi speciali. Questa collaborazione è fondamentale perché l'insegnante è la figura chiaramente che è sul campo, quindi si accorge quando nel bambino c'è qualcosa che non va che non quadra. Noi specialisti invece riusciamo ad analizzare dal punto di vista clinico queste particolarità, quindi potremo aiutare l'individuazione, potremo anche informare le famiglie e accompagnarle nel percorso successivo che potrebbe essere ad esempio una valutazione di approfondimento e così via. Ed ora apriamo la pagina dello sport. Serata no per il Pescara che a Empoli si sveglia troppo tardi e subisce per gran parte il gioco della squadra di Vivarini trascinata dalla doppietta di Caputo. Il Delfino fallisce così l'assalto alla vetta e scoppia anche il caso Pigliaceli. Il portiere si sarebbe dovuto accomodare in panchina ma di fronte alla pretesa dell'atleta di giocare il tecnico Zeman ha preso un provvedimento disciplinare e lo ha spedito in tribuna rinunciando così al portiere di riserva. Andiamo a sentire il servizio di Paolo Renzetti e poi le dichiarazioni del tecnico Zeman. Nella sfida fra i due attacchi più prolifici della Serie B e tra i due capocannonieri del torneo Pettinari e Caputo fa festa l'Empoli che si aggiudica con pieno merito l'intera posta al termine di 90 minuti dominati per lunghi tratti dalla squadra di Vincenzo Vivarini che mancando diverse occasioni ha poi permesso nel finale al Pescara di Credici di accorciare nel punteggio prima del definitivo 3 a 1 di Caputo. Per il Delfino una serata negativa iniziata male con l'esclusione di Pigliacelli per motivi disciplinari e finita in modo ancora più amaro con il KO sul campo. Zeman cambia per l'ennesima volta formazione lasciando in difesa Zampano in panchina per Crescenzi e richiamando dall'inizio coda per Bovo. In attacco ancora fuori Benali con del sole Mancuso esterni al fianco di Pettinari punta centrale in curva sud un centinaio di tifosi bianca-azzurri, settimo e Crunic in area abruzzese a scaldare i guanti di Fiorillo. Il Pescara si muove bene dall'undicesimo Caputo a chiamare il portiere pescarese alla respinta. Al quattordicesimo Fiorillo non può però nulla sul colpo di testa di Ninkovic che sul cross di Pasquale salta indisturbato in area mettendo la palla in rete. Per il Pescara così come sabato scorso inizio di partita ad handicap. I ragazzi di Zeman accusano un e poi il colpo e la reazione tarda ad arrivare. Non tardano invece le opportunità per i locali che si rendono pericolosi per tre volte in due minuti. Al 29 Pasquale chiama su punizione Fiorillo alla deviazione in angolo. Passano pochi secondi ed è Caputo ad arrivare vicino al 2-0. Pescara non pervenuto in attacco che al 34esimo fa ancora peggio con il fallo di Perrotta in area di rigore su Crunic. Il penalty appare piuttosto netto con Caputo che dagli 11 metri non sbaglia per il raddoppio. Montefonda per il Pescara fino al termine del primo tempo non riesce mai a concludere verso la porta di Provedel. Nella ripresa Zeman manda in campo Benali al posto di Del Sole. In campo però Lempoli rischia di dilagare. Zeman al 28esimo manda in campo Culibali per Palazzi mentre Lempoli al 31esimo con Zaic arriva ad un passo dalla 3-0. La formazione adriatica è più reattiva del primo tempo empolese che si salva in calcio d'angolo. La gara ora è finalmente più palpitante anche con il Pescara finalmente rabbioso e che si rende pericoloso ancora al 35esimo con Benali che sfiora il 2-1 prima dell'azione di Crunic che manca il Tris e così al 38esimo arriva la rete del 2-1 di Culibali che rianima squadra e tifosi anche se per qualche minuto prima della papera di Fiorillo che al 41esimo regala invece la rete del 3-1 Caputo per il Pescara e l'epilogo Amaro di una serata da dimenticare è scossa anche dal caso Pigliacelli che farà sicuramente discutere in settimana. Sì, dovevamo cercare di recuperare, abbiamo fatto qualche cosa però abbiamo lasciato qualche contropiede a Empoli che era normale, peccato che abbiamo preso brutto gol su punizione però fa parte del gioco. Sicuramente non abbiamo ritmo di quello che vorrei sulle giocate, perdiamo troppo tempo, cominciamo lenti da dietro e quindi poi è difficile andare contro difese chiuse a fare qualche cosa, noi dobbiamo ripartire il più veloce possibile, non ci riesce anche se oggi per me a centrocampo hanno cercato di costruire però è troppo lento. C'era qualche problema disciplinare o parare a tutti i costi. Diciamo un problema che si potrà ricomporre entro poche ore in vista della gara con il Brescia? Se il ragazzo cambia atteggiamento che è difficile. Continuiamo con la pagina dello sport, il presidente della Lega Pro Serie C Gabriele Gravine è tornato a parlare di due questioni spinose che riguardano in questo momento la terza serie nazionale, la questione che riguarda il caso Modena fino alle dichiarazioni di Federbet che aveva messo nel mirino solo ieri nella gara Sant'Arcangelo-Teramo. Sentiamolo, il presidente Gravino. Presidente, nei giorni scorsi un po' è finita nell'occhio del ciclone per la questione Fanno-Modena, ecco a pochi giorni dal prossimo turno di campionato che certezze ci sono, se ce ne sono? Le certezze sono legate al rispetto delle norme, entro oggi noi aspettiamo una risposta chiara e definitiva da parte dell'amministrazione comunale di Modena e da parte della società Modena e dopodiché noi comunicheremo a chi ha il dovere e il diritto di applicare le norme che è la Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi vedremo un attimo quelli che saranno le decisioni finali. È fiducioso? Io sono fiducioso per il rispetto delle norme sicuramente, un po' meno per l'esito. Ha visto anche le dichiarazioni di Federbet su questi flussi di scommesse, insomma che giudizio è una modalità ben nota, noi che siamo addetti ai lavori conosciamo bene queste metodologie, una metodologia che noi personalmente non condividiamo, non apprezziamo e condanniamo. Lega su questo evento specifico ha adottato i soliti provvedimenti che ha adotta sempre, non l'ha fatto a livello di stampa ma lo fa solo ed esclusivamente agli organi competenti che sono gli unici che hanno il diritto e hanno soprattutto il potere di poter esercitare qualunque tipo di controllo. Sbandierare i 420 a livello di comunicazione e di stampa, l'avere una notizia che tutti hanno mi sembra veramente fuori luogo, mi sembra una propaganda di natura commerciale che non fa parte della nostra politica, non ha nulla a che vedere con l'etica ma soltanto un principio che noi continueremo a condannare per le modalità e comunque ci vedono impegnati nella lotta al match fixing perché noi siamo convinti che il nostro metodo condiviso con gli organi che tutelano la giustizia in Italia come Ministero degli Interni sono gli unici metodi che dobbiamo seguire. È tutto per questo appuntamento con la nostra informazione, grazie per essere stati con noi, arrivederci agli prossimi spazi informativi.